Buonasera e ben ritrovato in un saluto appuntamento con la voce delle istituzioni, è il piacere di avere in studio il sindaco di Cortina d'Ampezzo, Gian Pietro Ghedina, che saluto e che ringrazio per la disponibilità. La sua elezione a sindaco, che è una carica molto importante, ha corrisposto a tanti eventi che si sono poi verificati, ma la maggior parte di questi ha sei fortunati dai mondiali all'Olimpiadi, però non c'è gioia senza dolore e arriva il Covid, il suo comune è stato uno tra i più colpiti. Come ha vissuto questi mesi? Sono stati mesi difficili, anche perché comunque eravamo in piena stagione, ricordo quindi a fine febbraio, inizio marzo, in pieno delle settimane bianche, quindi con Cortina piena, con 40.000 circa presenze sul territorio, quindi dall'oggi al domani ci siamo trovati a dover chiudere gli impianti di risalita, a dover chiudere la nostra località sotto il profilo ovviamente turistico, una situazione ovviamente che non avevamo in mano e soprattutto le informazioni che arrivavano a noi, come ovviamente al resto del mondo, erano abbastanza sporadiche e un pochettino che lasciavano il tempo che trovavano, nel senso che non si era ancora capito di che cosa si trattava. Quindi chiusura della stagione, una stagione peraltro veramente d'oro, probabilmente da incorniciare, partita presto a novembre con tanta neve, con tante manifestazioni che erano in atto, quindi 8 di marzo, chiusura degli impianti di risalita, rinuncia delle finali di Coppa del Mondo, che ricordo erano programmate per il 18-22 marzo, quindi una grande opportunità sia in termini ovviamente di visibilità, sia economici ma anche quello che doveva essere un po' l'evento, diciamo il test event per i mondiali dell'anno successivo, cioè quelli del 2021. Quindi una situazione tutta da gestire e da in qualche modo riprogrammare, e dopo quello che io ho definito come un pit stop, nel senso che eravamo veramente a 300 all'ora, cambio gomme, una pausa di riflessione, di riorganizzazione di una stagione che si stava concludendo diciamo in quella maniera e soprattutto una programmazione per la stagione successiva, quella estiva che è appunto alle porte. I motivi di un maggiore contagio a Cortina piuttosto che in altri comuni? Beh, certamente ovviamente come località turistica con quella forte affluenza che abbiamo avuto proprio in quelle settimane, in quei weekend, certamente hanno giocato a nostro sfavore in questo caso. Ricordo che noi siamo una popolazione residente di circa 6 mila persone, eravamo come dicevo a 40 mila, quindi con tante attività, manifestazioni, feste, impianti e rifugi pieni, e quindi sicuramente questo ha giocato, per cui siamo arrivati addirittura ad avere 108 persone contagiate, adesso è anche un po' il momento per fare i bilanci a consuntivo e quindi una situazione difficile da gestire e soprattutto anche di forte preoccupazione all'interno della nostra comunità, perché ovviamente con così tanti casi, insomma, e con alcuni focolà in particolare, che erano veramente, hanno creato della tensione all'interno della mia comunità. Una comunità molto colpita, ma non la casa di riposo. La casa di riposo, devo dire, che ha avuto e è stata gestita, direi, con attenzione, ci sono stati evidentemente anche lì alcuni casi, dovuti ovviamente anche alle persone, agli ospiti, che ovviamente più deboli e magari con un sistema immunitario molto più basso, però devo dire che è stata gestita, direi, al meglio, quindi direi che quello non è stata una delle principali preoccupazioni, insomma, che abbiamo avuto all'interno della nostra paese. Una delle sue preoccupazioni era però l'arrivo di coloro che posseggono la seconda casa, che è stato più difficile gestire a Cortina che non da altre parti. Sì, anche perché i vari decreti che si sono susseguiti certamente non ci sono stati d'aiuto, tanta confusione, chi era nel territorio, comunque nella nostra città, prima dell'8 marzo poteva rimanere, quindi in realtà erano molte le persone, molte le famiglie con la seconda casa che erano già a Cortina. Probabilmente nei periodi successivi ci sono stati dei nuovi arrivi, si parlava appunto durante i weekend, ovviamente gli uomini sul territorio, le forze dell'ordine erano poche, per cui diciamo probabilmente qualcosa è sfuggito. Però devo dire mano a mano che ci si è avvicinato verso aprile e anche nella consapevolezza un po' della situazione e della drammaticità della situazione, devo dire che c'è stata sicuramente un maggiore senso civico, certamente della parte residente, ma devo dire che tutto sommato anche i cosiddetti secondi casisti o coloro che hanno la seconda casa o comunque i turisti che erano sul territorio, devo dire che si sono comportati bene e quindi un po' alla volta la situazione si è normalizzata e ad oggi possiamo anche, non dico sorridere, ma insomma possiamo dire che ce l'abbiamo gestita con equilibrio e un sospiro di sollievo. Senti, è una stagione turistica che si interrompe e nel momento di grande fulgore, poi un lungo periodo di impossibilità di muoversi, arriva adesso la stagione estiva. Quali sono i programmi che avete in molti comuni? Sono state annullate tantissime manifestazioni anche da voi? Sì, una riprogrammazione da fare, quindi l'emergenza prima, la riprogrammazione su una stagione estiva che sarebbe partita direi già a fine maggio con alcune manifestazioni importanti, a giugno avevamo la Varedo Ultra Trail, quindi manifestazioni internazionali con una partecipazione da tutto il mondo che si sono dovute evidentemente annullare, quindi questo sicuramente un danno in particolar modo per le strutture alberiere, per alcune strutture commerciali e un annullamento complessivo sulle manifestazioni anche di luglio, riprenderemo a fine luglio con le manifestazioni della Coppa d'Oro, delle Dolomiti, delle autostoriche, devo dire ci sarà, e questo mi auguro, che ci sarà una buona presenza nel periodo di luglio, agosto e probabilmente anche settembre, anche perché in generale vedo che c'è molta voglia di montagna, in particolare su Cortina ci sono molte richieste e molte prenotazioni, in particolar modo per quanto riguarda gli appartamenti, ricordo che noi siamo molto forti non solo sulla presenza alberghiere che sono circa 5 mila, ma sulle presenze all'interno degli appartamenti noi abbiamo circa 20 mila, 25 mila posti letto all'interno degli appartamenti, quindi in realtà ci sarà una Cortina sicuramente nei prossimi due mesi con molta affluenza, una stagione da reinventare, come ho detto, più all'aria aperta, più attività sportiva, più attività a contatto del nostro territorio, della natura, però credo che potrà dare comunque qualche soddisfazione. Ci sono associazioni e strutture che stanno lavorando molto per la promozione di Cortina, dall'associazione albergatori a Cortina Fosa a Foras, lei ha una buona intesa con tutte queste associazioni? Sì, devo dire che anche in questo periodo è stato un momento anche in qualche modo per ascoltarsi di più, per sentirsi di più, per creare dei tavoli di lavoro, probabilmente le situazioni di difficoltà e di emergenza in queste situazioni aiutano come collante e devo dire la nostra Cortina Marketing, che è un po' il nostro braccio operativo per quanto riguarda la promozione turistica, insieme appunto all'associazione albergatori, Cortina Forasa, gli impiantisti, devo dire che hanno fatto sistema, come si suol dire, per riprogrammarsi appunto nel periodo estivo e ovviamente più in là, ovviamente per una stagione invernale, la 2020-2021, che noi riteniamo possa ritornare anche con una maggiore presenza straniera che evidentemente nel periodo estivo di quest'anno probabilmente mancherà. Senta, gli amministratori, tutti della provincia di Belluno, però non interessa questo, vanno lodati perché riescono ad affrontare situazioni difficilissime con una carenza di personale notevole. Ho letto che voi avete lanciato dei bandi per l'assunzione addirittura di 9 persone, sono tante, quindi vuol dire che c'è una carenza marcatissima. Sì, beh, devo dire che noi abbiamo un comune importante nel senso del bilancio, ovviamente quindi delle entrate e anche dei servizi che dobbiamo dare. Noi siamo una popolazione residente, come dicevo, di 6 mila residenti, però dobbiamo dare servizi e infrastrutture per 40-50 mila persone, quindi il carico è assolutamente notevole, il comune impiega circa un'ottantina di persone, quindi diciamo un numero piuttosto elevato, però c'è anche molto turnover, dato anche qualche volta della difficoltà di venire a vivere a Cortina per i costi che ci sono e anche per il fatto che molto spesso magari i dipendenti chiedono un avvicinamento verso la propria casa. Ecco che quindi ci sono 9 prossime assunzioni, in particolar modo da impiegare nei settori tecnici, quindi lavori pubblici piuttosto che delizia privata, visto che c'è un grandissimo, devo dire, fermento, in particolar modo sull'edilizia, sul comparto alberghiero, quindi di ristrutturazione di nuovi alberghi. Quindi c'è molto lavoro e molto spesso purtroppo non si riesce a stare ai ritmi che si vorrebbe o a quelle che sono poi le richieste da parte del privato. Entreranno in attività a breve? Beh, per l'autunno e quindi bisognerà ancora un pochettino soffrire, però devo dire che comunque siamo strutturati, abbiamo due nuovi dirigenti che da qualche mese sono arrivati sia per l'area amministrativa sia per l'area tecnica e quindi si sta un pochettino ricostituendo un po' un comune che negli anni aveva perso sicuramente un po' di capacità di gestione della località e soprattutto insomma c'è molte delle risorse più importanti, i migliori erano in qualche modo andate via. Si sta recuperando il tempo perso. Per svariati motivi ma anche e soprattutto per i mondiali del 2022 probabilmente, per le Olimpiadi del 2026 c'è molta attenzione su Cortina, un'attenzione che può riguardare gli investitori ma può riguardare anche la criminalità. Lei ha partecipato penso attivamente a questo tavolo in prefettura per controllare che non vi siano delle infiltrazioni. Sì, devo dire che c'è molta attenzione grazie a questi tavoli che sono stati costituiti quindi alla prefettura, quindi sia in questa situazione contingente ovviamente del Covid, quindi di situazioni magari economiche di vari imprenditori che possono trovarsi in difficoltà e quindi magari potrebbero dare aperture verso la malavita e quindi questo deve essere assolutamente attenzionato. Per quanto riguarda i mondiali devo dire che era stato fatto già alcuni anni fa un protocollo diciamo di intesa proprio di massima attenzione e trasparenza per evitare che ci potessero essere o che ci possano essere delle infiltrazioni o delle ditte che si inseriscono approfittando dei grossi volumi di lavoro e di denaro, quindi c'è la massima attenzione un po' da tutti e c'è anche da questo punto di vista direi una bellissima collaborazione con la prefettura e un po' con tutti gli interlocutori istituzionali e questo assolutamente ci aiuta molto. Quando si dice tutto un cantiere generalmente si pensa a una grande confusione, ma per voi è bene che ci sia un continuo cantiere a Cortina, mi pare di aver letto 15 alberghi che verranno ristrutturati. Sì, una quindicina di alberghi in ristrutturazione, molti interventi ovviamente sulle strade, non solamente per gli interventi programmati da ANAS ma anche per le infrastrutture e i sottoservizi che stiamo predisponendo, quindi abbiamo circa un'ottantina di chilometri di fibra ottica che stiamo mettendo sotto le strade, perché proprio fisicamente e materialmente sotto le strade di Cortina, in modo da essere tecnologicamente più avanzati, sia per gli appuntamenti internazionali a cui guardiamo, quindi i mondiali piuttosto che le Olimpiadi, il sotterramento anche della linea Enel, abbiamo dei lavori importanti per quanto riguarda Terna, quindi sul voltaggio più alto della linea elettrica, quindi direi che effettivamente è tutto un cantiere, c'è un grande fermento, ovviamente questo può provocare anche qualche sofferenza, qualche fastidio da chi è abituato magari a muoversi con un po' più facilità, però devo dire si soffre un po' per avere sicuramente, io mi auguro il prossimo anno, i prossimi anni in una cortina un pochettino più attuale, rinfrescata e soprattutto al passo coi tempi. A complicare la situazione è che questo stop è avvenuto nei mesi di bassa stagione dove si sarebbe potuto lavorare senza creare tanto disagio, quindi bisogna recuperare il tempo. Sì, peccato perché appunto si poteva approfittare di qualche mese in più per portare avanti le lavorazioni che devo dire comunque sono riprese nelle settimane scorse, continuano e continueranno anche nel periodo di luglio e agosto, anche perché abbiamo lasciato e dato come amministrazione delle dereghe, anche dei permessi per lavorare durante il periodo di agosto, al di là della settimana di ferragosto, quindi per permettere di recuperare un po' del tempo perso. Abbiamo già accennato allo slittamento probabile dei mondiali 2021, quando è stata fatta questa ipotesi lei l'ha subito sposata come ipotesi assolutamente da percorrere. Sì, devo dire che abbiamo lavorato su questa richiesta, su questa proposta di spostamento dei mondiali, devo dire che non è così sicura come in un primo momento forse ci si augurava, però credo che sia assolutamente o era assolutamente una strada da percorrere, ovviamente poter avere un anno in più appunto per una situazione per ospitare un mondiale a porte aperte, quindi con presenza di pubblico, lavorare con sicurezza, anche perché ricordo che avremo comunque la partecipazione di atleti di tutto il mondo, quindi non sappiamo bene ancora ad oggi come sarà l'evoluzione di questa pandemia, forse non tanto in Italia, ma ovviamente all'estero forse c'è qualche preoccupazione di ripresa durante il periodo autunnale, quindi per noi poterlo posticipare di un anno sarebbe garanzia di poter presentare un mondiale a 360 gradi, se così non fosse Cortina ha grosse capacità organizzative e lavoreremo comunque per il febbraio 2021, però l'augurio è che si possa posticipare di un anno. Quindi la macchina funziona regolarmente, tutto è pronto nel caso non dovesse essere confermato questo aslittamento? Sì, si lavora sui due piani, il piano A e il piano B, è certo che il primo luglio attendiamo l'esito nella speranza, però eventualmente lo riporteremo al 2021 come la sua data originaria, comunque nella consapevolezza che possiamo e sappiamo fare bene. Gli impianti di risalita ovviamente sono una parte determinante del successo turistico di Cortina, è stata rinnovata la freccia del cielo e adesso parte un altro intervento molto importante che vi permette di entrare in collegamento con un'altra parte del territorio ma un po' distante che è quella delle Cinque Torri e di rimpetto il Falzarego. I lavori per questo impianto? Sì, devo dire che la mia amministrazione ha puntato molto sui grandi eventi, quindi i mondiali piuttosto che le Olimpiadi, come l'occasione e l'opportunità per darsi quelle infrastrutture su cui Cortina era un po' in ritardo e quindi coprire quel gap, diciamo che sulla parte alberghiera si sta lavorando, che era una delle problematiche, sulla viabilità anche stiamo lavorando, sull'impianto di risalita devo dire che c'è stata una bella risposta da parte dei privati, cioè degli impiantisti che in sinergia con l'amministrazione e anche con il commissario straordinario alle attività sportive Luigi Sant'Andrea si è riusciti veramente a velocizzare le tempistiche, ecco che è partito l'impianto di risalita che parte dalle Tofane verso Col Drusce, stiamo lavorando al nuovo impianto che collegherà i due fronti, il fronte diciamo di Socrepes, della Tofana con le Cinque Torri, abbiamo iniziato proprio in queste settimane una parte di disboscamento, è un impianto molto importante perché collegherà appunto i due fronti e stiamo lavorando per un terzo impianto, anche questo strategico, che partirà dal centro di Cortina per arrivare nella zona di Socrepes, a quel punto devo dire che saremo veramente, avremo tre impianti tecnologicamente molto avanzati, all'avanguardia soprattutto che collegheranno il centro verso le Cinque Torri e chissà magari un giorno verso la Valbadia o verso la parte di Alleghe e della zona del Civetta. Che è un progetto sul quale puntano i molti, una delle suggestioni più forti che ho avuto quando un ampezzano mi ha fatto notare che nella piazza che c'è posta alla chiesa c'è una stazione, una volta da lì partiva la seggiovia, mi immagino la bellezza di poter partire proprio dal centro, è da lì che partirà questo impianto? Partirà leggermente spostato nella zona dei tennis e delle scuole, un pochettino più sotto, arriverà invece che nella Pocolla, arriverà Socrepes, quindi diciamo alla base di partenza delle gare, delle competizioni, dei mondiali, poi delle successive olimpiadi, quindi è un intervento molto strategico in cui ci crediamo sia noi, ma ci credono soprattutto anche chi dovrà investire, che sono questa rete che si è formata di impiantisti di risalita, la regione ci sta dando veramente una grossa mano, per cui contiamo di poter entro l'anno avere buone possibilità di partire anche con questa infrastruttura. Questi impianti fanno parte anche del vostro ripensamento della mobilità interna? Assolutamente, l'impianto va visto innanzitutto non solo per l'inverno, ma va visto anche come una mobilità per il periodo estivo, alcuni impianti devo dire negli anni sono stati dismessi, quindi in realtà non è che si aggiungono solo impianti nuovi, ma viene praticamente riorganizzata un po' l'attività degli impianti di risalita e quindi una maggiore e migliore mobilità nel centro, quindi con maggiore pedonalizzazione, con la creazione di parcheggi interrati che possano permettere di lasciare la macchina quando si arriva e di utilizzare i mezzi pubblici, in questo caso di risalita, che la città può mettere a disposizione. No, allora intanto le faccio gli auguri perché sia un periodo un pochino più tranquillo dopo tutto quello che è accaduto e gli auguri anche per una buona stagione turistica a lei in rappresentanza di tutto il territorio della Valle d'Ampezzo. Siamo stati con il sindaco di Cortina d'Ampezzo, Gianpittor Ghedina, che ringrazio anche per i molti impegni, ha trovato il tempo per venirci a trovare, ringrazio anche voi per averci seguito e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie.